Io, veramente, nella mia vita non voglio più fare niente. Tantaglia, paura! Sai cosa devi fare? No. Ti piace il professore? Sì. Ti fai di diventare il suo assistente? Sì. Facciamo una sorpresa tra i geni. Te lo facciamo sedere, ti cacchiamo gli occhi, poi ti metti tu un dito, e tu gli occhi, e poi ti svegli, però devi assominarli un buon idiolo. Sai un po' di tedesco? Ja. Come ti chiami? Jacopo. No. Ti chiamerai Catofine. Catofine. Allora, puoi entrare, chiedevi. Dritto, no, dritto, dritto, così significa cadere le cose. Per questo non c'è niente. Dai, 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 va bene, ho capito. Non allungare il manno. Adesso sei seduto. Tottore ha paura. Chi è? Anzi, cacca. Ma mi sono ch***o in mano. Ciao. Ciao, io sono... Meno male, non fai schifo. Ma no, io sono Catofine. Sei Catofine. Sei Catofine. Sei Catofine piccolo. Ciao, che bello. Quando avessi di trovare dei ragni, invece trovi un bambino. Catofine ti chiami? Sì. Ma essere mio figlio? Io non avere figli. Ceditore 1, Ceditore 2. Fare esperimento. Iniziamo. Non sapere neanche cosa fare, ma facciamo. Oggi Tottore avere portato Catofine, che essere pampino, plurientralligente, perché parlare molte lingue. Io parlo francese in francese. Moi, je parle fransais. Meraviglioso. Prova a dire, io parlo italiano in italiano. Io parlo in italiano in italiano. Prova a dire, io parlare tedesco in tedesco. Io parlare in tedesco. Pappina è parlare tutte le lingue. Quindi oggi parlare con pappine e spiegare a pappini come funzionare i basi comunicanti. Prego i servienti, portare, anzi, fai vedere se tu, tu vero cartofen, tu chiamare i servienti e dire portare materiale. Chiamare i servienti. I servienti, portare materiale. Oggi il dottore è spiegare a Pimp come funzionare i basi comunicanti e a tutti voi essere inferiori. Allora, prendere bicchiere e mettere qua. Prendere alta brocca e mettere qua. Liquido, dovere passare da una brocca all'altra senza toccare brocche. Come funziona? Noi usare tubo. Tubo multifunzione perché tu rubare bibità da amici quando essere in classe oppure tu passare liquido da qua a qua. Noi cosa facciamo oggi? Ce lo facciamo passare dentro il camice. Sei pronto? Sì. Dottore, però, sì? Se ci bagniamo il crembiule. Dottore ha fatto molto peggio. Passare tubo, dai una mano a passare tubo. Venga qua. Che è la mente di due. Che è la mente di due, giusto? Non lo senti. Quindi facciamo che fa lui esperimento. Adesso, Tottore, mostrare a te come funzionare a principio. Cartofinen essere pronto. Serviente, finire, basta! Aiuto! Basta, serviente! Vai, serviente! Aiuto! E adesso che avere tu capito come funzionare i vasi comunicanti, noi giocare insieme al grande laboratorio dei mostri. Questo che avere in mano cartofine essere primo gioco a tema scientifico collezionabile. Quindi incredibile perché oggi noi montare, aprire, prima tutto perché bisogna aprire. Ma quanti anni avere cartofine? Otto. Otto anni. A posto. Ringraziamo Lishani per aver provvisto di elementi. Adesso vedere e fare esperimento scientifico. Tottore, avere uova. Paline. No, essere uova. Essere uova per far nascere mostri. Questa sai che cosa è essere? È qualcosa che Tottore è bravo. Se non fare bravo Tottore, girarsi e pam. Certo che cosa? Prego cartofine. Attivatore e colla che essere qua. Tre uova e ce l'abbiamo. Cisterna. La cisterna qual'essere secondo lei? Cisterna essere esattamente questa. Tottore, molto bravo. Collegare il tubo. Bene. Stare lì non fare nient'altro. Tottore, essere più bravo di te. Però, adesso non esagerare Tottore. Quello che abbiamo fatto, ah, tu stare ancora abitando lì va bene, abitare. secondo me era meglio abitare prima ma fare niente. A few moments later. Adesso che noi avere montato tutto quanto come modo giusto bisogna iniziare a far nascere nostri mostri. Inserire mostro in camera di nascita. Perfetto. Tottore, inserire acqua in cisterna. Tu essere vecchio. Tu essere vecchio pure avere capelli bianchi. Ma cosa volere? Bambino scranzato. Non fare casino che poi dover pulire io. molto bene. Guardare bene siringa mentre riempirsi condottore che tira. Bravo. Perfetto. Ripetere operazioni in modo tale da riempire totalmente acqua di cisterna. Adesso avere mostro che sta nascendo. Noi però non fare niente per dieci minuti quindi togliere mostro e mettere altra cisterna perché noi farne nascere un altro. no non toglierlo ok perfetto. Io sarò sempre più intelligente di te. Adesso noi lasciare effervescentere mentre i mostri. Adesso guardare se sperimenta essere riuscito. Bravo. Molto bene. Noi avere trovato questo essere pallocchio lui essere Cornetto quattro fagelli essere questo qua noi avrei trovato solo due di 24 perché esser ce ne 24 però essere il mio preferito cornetto. Storio avere adesso due mostri uno a testa. Noi cosa dobbiamo fare adesso dobbiamo conservare i nostri mostri perché i mostri vanno conservati come creature mitologiche va bene quindi noi dover creare liquido amniotico dover reversare metà contenuto a few moments later i servienti passare ricarica questa essere ricarica perché tu poter prendere le mostri anche a parte e qua dentro noi avere mostro ma non usare adesso avere mostro ma avere soprattutto cosa che noi serve essere colorante così tu poter fare colore diverso da quello di totore capito mi essere più colorato tu essere più colorato perché aver messo goccia più abbondante ma a me va a fare una adesso noi aver creato ambiente favorevole nutritivo per i nostri mostri quindi noi inserire il mostro all'interno di liquidi ringraziamo lisciani per averci dato mostre così belli quindi noi aver finito qua il video essere contento Jacopo andare bene no giochiamo di più dai dobbiamo giocare di più e allora mentre noi giochiamo di più voi potete vedere altri video di dottore perché qua esserci playlist di video nuove qua esserci altro video essere altro video molto bello guardare e qua invece esserci canale noi avere finito e giocare di più con questi perfetto dottore fatto male